Ciao ragazzi e benvenuti in questo un episodio di Underrated Singers Prima di iniziare però volevo chiedervi scusa se la qualità del vlog, dello scorso vlog non è stata al massimo verso la fine del video Ma purtroppo sono andato un po' di difficoltà a trasferire i video dal cellulare al computer ma penso che a breve risolverò tutto Detto questo possiamo iniziare Il cantante di oggi si chiama Liu Ho scoperto Liu sempre su Spotify C'è una playlist che si chiama Discover Weekly Vi consiglio di andarla a vedere perché mettono tanti di questi cantanti emergenti o comunque cantanti che magari non avete mai sentito prima E quindi vi consiglio di darci un'occhiata se avete Spotify E proprio in questa playlist, tempo fa, ho sentito questo cantante che si chiamava Liu E la prima canzone che ho ascoltato si chiamava Baby Steps Ne ricordo che me ne sono subito innamorato, non so cos'era di quella canzone che mi piaceva così tanto Ma ricordo che l'ho ascoltata per tutta l'estate e ancora adesso mi fa impazzire E' una di quelle canzoni che non ti stanca Allora, com'è questo artista? Il primo impatto sull'aspetto non sembra niente di speciale Se guardiamo magari come si veste, il suo stile sembra un ragazzo qualunque, non ha particolarità Le canzoni per la maggior parte parlano di amore Qual è secondo me la cosa che distingue Liu da molti altri cantanti? La cosa che secondo me distingue Liu dagli altri cantanti sicuramente non è l'aspetto ma il sound delle canzoni Infatti in molte canzoni ho notato che usa il violoncello Questa è una cosa molto particolare perché di solito nelle canzoni che ascoltiamo tutti i giorni non si trovano tanto questi strumenti Un'altra cosa che a mio parere lo fa distinguere molto dagli altri cantanti è la sua voce Ti rimane impressa nella mente Per quanto riguarda i suoi video invece anche lì trovo delle particolarità Perché se vedete la maggior parte dei suoi video non sono video diciamo professionali Molti video sono cover O anche se sono sue canzoni sono fatte magari nella sua cameretta E con lui che semplicemente suona la chitarra Quindi è una cosa che ho trovato abbastanza carina Perché la sua semplicità in qualche modo lo fa sembrare diverso a parere mio Un'altra cosa che secondo me è degna di nota È che anche se le canzoni trattano temi diciamo mainstream Cerca sempre di dargli quel tocco in più Cerca sempre di diversificarle in qualche modo Che sia appunto mettendo per esempio un violoncello Oppure mettendo un testo particolare Ok detto questo Non voglio dirvi molto altro su questo cantante come al solito Perché voglio che siate voi ad andare a vedere questo artista E scoprire se vi piace o meno Cosa vi consiglio? Vi consiglio come prima canzone di ascoltare Baby Steps Che è la prima che ho ascoltato io Che se non sbaglio dovrebbe anche essere su YouTube Solo in versione audio E poi di ascoltarvi Reality Realtà insomma per capirci E quella c'è sia una versione acustica Dove c'è lui che suona la chitarra Oppure c'è su Spotify la versione originale Che invece è cantata è un duetto con una donna Vi consiglio più di ascoltare quello E poi magari una volta che apprezzate il pezzo Di ascoltare la versione acustica Che è sempre carina Ok detto questo Spero che questo episodio di Underrated Singers vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Commentate o iscrivetevi E niente Come al solito ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.